Un calo della domanda in Cina e in Europa, 450 milioni di dollari bruciati tra aprile e settembre e poi Brexit sullo sfondo, che complica tutto. La casa automobilistica britannica Jaguar Land Rover è in crisi ed è pronta a tagliare, secondo indiscrezioni, 5.000 posti di lavoro. La casa sta affrontando difficoltà su tre fronti. In primis in Cina, e ne abbiamo già sentito parlare, poi c'è il grande abbandono del diesel, che si sta verificando in tutta Europa, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, e per Jaguar Land Rover, oltre l'80% delle auto vendute in Europa sono diesel. Infine c'è Brexit, l'incertezza che porta ha avuto un impatto sulla crescita economica nel Regno Unito e quindi anche sulle vendite delle auto. È certamente un fattore di crisi non il più importante, ma comunque un problema. Il taglio dei posti di lavoro dovrebbe riguardare il management, il settore ricerca, vendite e design non gli operai. Jaguar Land Rover, interpellata, ha preferito non commentare le indiscrezioni.